Cari amici di Numismatica per Damis, benvenuti sul canale. Oggi vediamo la 1000 lire, che è commemorativa del centenario di Roma capitale. Moneta in argento, di buone dimensioni, più di 30 mm di diametro, ed è peso di quasi 15 grammi. Vediamola un attimo. Sul dritto abbiamo la Dea Concordia, disegno ripreso da un denario romano, un'antica moneta romana, con la data 1870-1970, appunto i cento anni dell'istituzione di Roma come capitale d'Italia. Dimenticavo, Monassi, il disegnatore del dritto. Rovescio della moneta, riprende un disegno michelangelesco della pavimentazione di Piazza del Campidoglio. Sottoscritto Roma capitale, valore nominale 1000 lire, marchio della zecca, Roma, contorno, Repubblica italiana in rilievo. Moneta molto comune, oltre 3 milioni di esemplari coniati. In condizioni come questa, sui 30-40 euro. Questa è quasi fior di conia. Però, diciamo appunto, essendo una moneta comune, la trovate anche sui 15-20 euro in condizioni di B. Bene, cari amici, io vi ringrazio. Se il contenuto vi è piaciuto, vi chiedo un like e l'iscrizione al canale. Buona serata.